Un buon pomeriggio dalla redazione di live e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione che quest'oggi abbiamo deciso di aprire con quella che sicuramente possiamo definire come una buona notizia. Infatti parliamo dei recovery covid al civile di Brescia nella giornata di ieri nel consueto aggiornamento sulla situazione sui numeri dei recovery il maggiore nosocomio cittadino la direzione della sst spedali civili di Brescia ha deciso di corredare anche una breve relazione sull'andamento dei recovery almeno nell'ultimo mese insomma possiamo dire nel medio periodo. Le notizie sono comunque buone si parla di chiara tendenza alla diminuzione anche se questa diminuzione è molto più lenta per quanto riguarda le terapie intensive. Analizzando i trend di medio periodo circa un mese dell'andamento dei recovery si evince una chiara tendenza alla diminuzione che non trova ancora un'evidente corrispondenza nel numero di letti di terapia intensiva seppure negli ultimi giorni la riduzione sia consistente. Questo conferma il ritardo con cui le terapie intensive risentono della riduzione dei recovery e corrisponde al decorso comportamento della malattia. Questa è la valutazione, una sorta di analisi fatta dalla direzione della SST Spedali Civili di Brescia corredo dei consueti dati sull'andamento dei recovery covid. Senza dubbio un virgolettato che accende le speranze e certifica un po' quello che ormai vediamo già da diverso tempo nei numeri. La terza ondata si sta placando ma in certi valori la decrescita è ancora molto lenta. Nel dettaglio venerdì i recovery nel maggiore nosocomio cittadino erano 389 mentre nella serata di ieri erano 357. Un rapidissimo calcolo ci mostra una differenza di 32 pazienti, una flessione abbastanza decisa in senso assoluto che però si fa più risicata nelle terapie intensive che venerdì erano 45 e ieri sera ancora 40. Per la prima volta dall'inizio di questa fase acuta però il civile fa anche sapere che la saturazione delle rianimazioni seppur ancora alta scende sotto il 90% venerdì era al 96. Questa riduzione possiamo definire a doppia velocità la riscontriamo anche a livello regionale per farlo insomma vediamo insieme quello che è il bollettino andiamo sul nostro sito internet livebrescia.tv per dare uno sguardo ai dati sulla diffusione del contagio come possiamo già capire dal nostro titolo sono i dati del lunedì con pochi tamponi in tasso di positività scende al 5.2% e appunto come abbiamo visto anche per quanto riguarda Brescia si riducono i ricoveri. Vediamo insieme l'infografica di regione Lombardia vediamo che appunto i tamponi sono 19.022 sono praticamente meno della metà rispetto alla giornata precedente vedremo poi se da questa sera insomma torneranno a salire dopo il fine settimana 997 i positivi emersi cioè 5.2% di tasso di positività e questo possiamo dire che è un dato positivo se consideriamo che una settimana fa il tasso di positività dopo il weekend pasquale era all'8%. Per quanto riguarda invece i dati provinciali che ovviamente dobbiamo prendere con le pinze dobbiamo fare la tara di quello che è il numero dei tamponi vediamo che Brescia con 153 nuovi contagi è nuovamente seconda in regione quindi restano più o meno invariate quelle che sono le proporzioni Milano al primo posto con 341 e Bergamo al terzo con 117 nuovi contagi per quanto riguarda il resto delle province Lombardi invece non si superano i 100 nuovi positivi. Per quanto riguarda i decessi vediamo un più 62 è un dato sicuramente ancora molto alto ma che si è sicuramente ridotto rispetto alla soccorsa settimana vedremo insomma se anche questo è influenzato da quelli che sono i flussi dei dati nel fine settimana o se verrà confermato anche da questa sera in poi ovviamente speriamo che sia una riduzione che tenda a sconsolidarsi da questa sera in avanti. Per quanto riguarda i recovery come abbiamo detto vediamo anche qui questa doppia velocità come vi dichiarato anche dal civile vediamo meno 3 si riducono ma solo di 3 pazienti le terapie intensive Lombardi che sono attualmente 811 quelle attive per Covid mentre per i reparti Covid convenzionali cioè quelli non di rianimazione vediamo anche qui un calo abbastanza importante meno 133 quindi prosegue anche il graduale seppur lento allentamento della pressione sui nosocomi Lombardi. Ovviamente questo speriamo che sia dovuto anche alla campagna vaccinale che si è avviata ieri in Lombardia con la sua fase diciamo così denominata massiva giornata di ieri che ha visto anche aprire i battenti il lab vaccinale della fiera di Brescia l'abbiamo visto nel telegiornale di ieri l'abbiamo visto anche nella puntata di ieri sera di Restart Brescia con questo tour all'interno dell'enorme padiglione che ora è dedicato alle vaccinazioni allora cerchiamo di fare un piccolo bilancio di quella che è stata la prima giornata di somministrazione. Il primo giorno del lab vaccinale alla fiera di Brescia è trascorso fra la soddisfazione degli attori che in questo ultimo mese hanno lavorato per creare uno dei centri vaccinali più grandi d'Italia la SST Spedali Civili di Brescia, ATS Brescia Regione Lombardia e Camera di Commercio. La partenza è stata morbida con otto linee vaccinali rispetto alle attese 12 e alla potenziali 16 a regime, 1100 prenotazioni. A parte l'ingorgo del mattino alle ore 8, già molti bresciani in file in attesa dell'apertura del centro, tutta la giornata è trascorsa secondo le previsioni con un flusso di persone ben regolato che ha quindi consentito di limitare al minimo l'attesa dei vaccinandi chiamati da un sistema di prenotazione gestito dalla piattaforma di poste italiane e quindi esattamente come quello degli uffici postali. Da registrare in questa prima giornata alla fiera due lievi malori post vaccino ma gestiti direttamente in loco senza la necessità di ricorrere a cure mediche. Operativo in fiera anche un ambulatorio di emergenza con defibrillatore e la possibilità di avere un'ambulanza in pochissimi minuti grazie ad un accordo prioritario con Areu. Ora sentiamo le parole dell'assessore al welfare, vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Morati che ha parlato nella giornata di ieri proprio delle vaccinazioni con particolari riferimento in prima battuta a quella che è la campagna vaccinale dedicata agli ultraottantenni e in seconda battuta invece per la campagna dedicata agli insegnanti. Lo sapete, l'abbiamo parlato nei giorni scorsi, quella che è l'ordinanza sulla priorità vaccinale firmata dal commissario Francesco Paolo Figliuolo che ha stabilito come criterio di priorità l'età anagrafica, insomma le classi di età a partire dall'età più alta e a scendere via via per le varie decadi. Ebbene è stata sospesa questa vaccinazione ma non le adesioni, sentiamo perché. Abbiamo terminato la vaccinazione degli oltre 600 mila cittadini e cittadine ultraottantenni, stiamo terminando anche gli ultraottantenni a domicilio, tutti coloro che non avevano aderito ma che si sono presentati spontaneamente presso i centri vaccinali sono stati vaccinati e in 5 giorni sono 20 mila e coloro che ancora non hanno aderito devono sapere che possono ancora farlo prenotandosi al portale delle poste. Ci auguriamo che davvero tutti lo possano fare e ringraziamo anche tutti gli operatori che sono veramente estremamente disponibili nei centri vaccinali e in tutte le sedi nelle quali si prodigano per la salute di tutti i nostri concittadini. Termineremo gli insegnanti che si sono già prenotati, sono poche migliaia e li termineremo in settimana. Poi manteniamo la registrazione per tutti coloro che non si erano ancora registrati per poter avere gli elenchi e poterli poi quindi inserire per la prenotazione quando sarà giunto il loro momento in funzione dell'età così come è richiesto dal commissario generale Figliuolo. Tidiamo qui la pagina dedicata al Covid e apriamo invece quella di cronaca e per farlo torniamo nel carcere di Canton Mombello nel Nerio Fischione, casa circondariale della città di Brescia perché la situazione, ricorderete nei giorni scorsi, le denunce del SINAPE non è migliorata. La giornata di ieri è stata una giornata nuovamente di subbugli fra detenuti e le agenti di polizia penitenziaria. Agenti di polizia penitenziaria che hanno definito quella di ieri come una giornata di pura follia e proprio per questo hanno indetto una manifestazione il prossimo venerdì. Detenuti hanno messo a suo quadro un'intera sezione. Barricati hanno spaccato su pellettili e lanciato di tutto contro i poliziotti colpevoli di essere lì in servizio. L'ennesima denuncia di queste settimane arriva nuovamente dal SINAPE, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria che rappresenta il maggior numero di agenti in servizio nelle carceri bresciane di Canton Mombello e di Verziano. Anche oggi, si legge nella nota del SINAPE, come accade da tempo ormai l'istituto bresciano ha vissuto momenti di pura follia. Per quanto tempo dobbiamo subire? Cosa si aspetta di intervenire? Aspettiamo che accada il peggio? No, a questo gioco al massacro noi non ci stiamo, è lo sfogo degli agenti che venerdì 16 aprile hanno proclamato lo stato di agitazione con una manifestazione all'esterno del carcere. Chiediamo all'amministrazione, concludono un intervento urgente. Andiamo ora sul nostro sito internet livebrecia.tv per parlare purtroppo di una storia triste avvenuta questa mattina nella nostra città. Se avete visto un po' di trambusto attorno alle 6 di mattina in via Milazio, perché è stato purtroppo ritrovato per la strada il corpo senza vita di un cinquantenne. Non ci sarebbero eventi violenti tra le cause di questa situazione, infatti sarebbe una morte per cause naturali. È stato ritrovato questa mattina attorno alle 16.15 seduto sul ciglio della strada, ormai purtroppo senza vita, un cinquantenne di origine senegalese. Al momento poco si sa di lui, pare sia un classe 1969, secondo i primi accertamenti degli agenti della squadra volante della polizia che è intervenuta sul posto. Sembrerebbe che l'uomo sia morto per cause naturali, un malore sul corpo e sul posto del ritrovamento. Nulla infatti farebbe pensare a dati di violenza o a un episodio legato al mondo della droga. Comunque gli agenti della volante della questura di Brescia stanno in ogni caso approfondendo la vicenda di questo tragico ritrovamento. Ora vediamo invece in modo molto rapido due operazioni avvenute nelle scorse ore per mano dei carabinieri di Brescia e di Chiari, operazioni antidroga. 31 anni lui, 25 lei, una coppia dedita allo spaccio di marijuana trovata dai carabinieri di Chiari in possesso di circa 90 grammi di questa sostanza già suddivisa in varie dosi pronte per la vendita. Come da protocollo, le verifiche si sono poi spostate nelle abitazioni e in quella dell'uomo i militari hanno rinvenuto e sequestrato altri 6 grammi di marijuana, oltre a tutto il classico corredo dello spacciatore, fra bilancini di precisione e bustine per il confezionamento. I due, dopo l'arresto in flagranza di reato, hanno trascorso una notte nella camera di sicurezza del comando, prima di essere condotti davanti ai magistrati che per loro hanno disposto gli arresti domiciliari. E' finito in manette per spaccio e detenzione di droga dopo aver attirato l'attenzione dei carabinieri con una manovra azzardata a lungo via l'Europa a San Zeno. Il protagonista in negativo della vicenda è un cittadino italiano classe 1967 residente nella periferia di Brescia. I militari lo hanno notato durante un servizio di controllo predisposto proprio per contrastare il fenomeno dello spaccio e dopo averlo fermato hanno sottoposto a perquisizione lui, la sua automobile e la sua abitazione. Il bilancio finale delle verifiche conta 5 dosi di cocaina per un totale di circa 3 grammi nascosti nel cruscotto dell'automobile, 14 dosi per un totale di 7,5 grammi della stessa sostanza ritrovati in casa e altri due involucri contenenti circa 6,5 grammi di hashish. Immancabile anche il bilangino di precisione e una somma di denaro contante di poco superiore ai 3.000 euro nascosti in un armadio. Processato per direttissima, l'uomo è stato condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa da 800 euro. E non si placano invece le polemiche in merito all'attacco hacker al comune di Brescia. Nonostante i servizi ai cittadini siano tornati online dopo giorni di lavoro dei tecnici, le minoranze in consiglio comunale attaccano l'amministrazione e chiedono soprattutto sicurezza e delucidazione in merito ai dati sensibili dei Bresciani. Sentiamo una sintesi di quelle che sono tutte le richieste del centro-destra dalle parole di Massimo Tacconi, consigliere comunale della Lega. Noi chiediamo sicuramente una cosa che è dovuta nei riguardi i nostri concittadini, la trasparenza. La trasparenza implica il fatto che ci venga spiegato se i dati dei nostri concittadini, i dati sensibili ma anche i dati personali, sono ancora nei server del comune di Brescia e non siano, come sembra, criptati, perché questo sarebbe sicuramente un fatto gravissimo. Noi chiediamo inoltre che tutte le procedure dei trattamenti dei dati personali siano ovviamente state rispettate. Ad oggi non abbiamo avuto risposte, quindi è questo che noi chiediamo. Trasparenza e ovviamente risposte alle domande che noi facciamo. Le domande che facciamo le facciamo non tanto perché sappiamo benissimo che gli attacchi hacker ormai, e purtroppo, ahimè, sono diffusi in gran parte d'Italia e tutti gli enti a tutti i livelli vengono presi di mira. Ma perché di fatto ci deve essere ovviamente delle procedure che salvaguardiano tutti questi dati personali che sono dati che non possono essere ovviamente diffusi e che quindi va ovviamente nella sicurezza dei dati che i nostri concittadini giustamente chiedono all'amministrazione pubblica. Perché voglio soltanto far presente una pratica edilizia, piuttosto che ovviamente l'anagrafe, piuttosto che le gare, le gare d'appalto, piuttosto che i servizi sociali che ovviamente necessitano ormai con il processo di informatizzazione che è stato fatto dalla loggia, sicuramente un investimento economico che permetta che questi dati ovviamente non vengano toccati o che quantomeno se sono criptati vengano tenuti ovviamente in salvaguardia, in altri serve e in altre unità ovviamente staccate da quelle che sono interne. Passiamo ora allo sport, parliamo di Brescia Calcio ma non di calcio giocato vero e proprio. Infatti ricorderete che prima della partita di sabato con il Pescara in realtà davvero ridosso il fischio d'inizio. Pochi minuti prima la società abruzzese aveva comunicato il riscontro di un caso positivo al Covid nel gruppo squadra che era stato isolato. La partita si è giocata regolarmente ma ora in realtà nella giornata di ieri la società abruzzese ha comunicato che in totale i positivi nel gruppo squadra e i tecnici sono saliti a 6 e quindi sono ore anche di ansia, sono ore di attesa per quanto riguarda i tamponi di controllo effettuati questa mattina dalle rondinelle. La partita di sabato del Brescia Calcio contro il Pescara finita con un pareggio non smette di far parlare di sé. Oggi però non tanto dal punto di vista prettamente sportivo quanto più da quello sanitario visto che ricorderete sicuramente l'annuncio della scoperta di un caso positivo al Covid fra gli atleti abruzzesi a pochi minuti dal fischio d'inizio. La partita come ben sappiamo si è giocata regolarmente ma ora la situazione si è aggravata visto che nella giornata di ieri la società pescarese ha comunicato la positività di 6 elementi, 5 del gruppo squadra e 1 dello staff. Un vero e proprio focolaio emerso a una manciata di ore dalla gara del Rigamonti che quindi fa temere per il riscontro di positività anche fra le rondinelle. In questo senso sono ore di attesa perché proprio nella mattinata di martedì il Brescia Calcio si è sottoposto al giro di tamponi di controllo e quindi c'è apprensione per conoscerne l'esito. La pallavolo ora con l'Atlantide che domani si torna in campo per gara 2 dei playoff contro Bergamo. Lo sappiamo che gara 1 non è andata esattamente bene, infatti è arrivata una sconfitta per 3 a 1. Allora sentiamo le voci dei tucani sicuramente rammaricati per la prestazione di domenica ma anche carichi per la sfida di domani alle 18. Siamo partiti molto bene, sul campo che conosciamo essere difficile. Loro si sono sciolti dal secondo set, peccato che il secondo set poi abbiamo sprecato qualche occasione. L'arbitro non ha fischiato una doppia calamorosa al loro palleggiatore a metà set in cui stavamo facendo dei prechi importanti. Però peccato perché non abbiamo saputo capitalizzare poi alcune occasioni anche nel terzo set che è stato giocato alla fine e perso 25-23. Peccato ma abbiamo dimostrato che ci siamo e a Brescia venderemo ancora cari alla pelle. Siamo tranquilli, siamo consapevoli del nostro potenziale, purtroppo ancora commettiamo tante ingenuità soprattutto nei contraattacchi e rispetto a loro abbiamo fatto vedere qualcosa di meno in copertura e difesa. Però penso che ce la possiamo giocare come è successo oggi nel primo e nel terzo set. Siamo partiti molto bene, carichi, siamo riusciti a imporre il nostro gioco, a limitarli in battuta, a tenerli bene. Peccato poi per il proseguo, forse nei tre set successivi è mancato qualcosina, magari in difesa, copertura, qualcosa di facile che poteva essere fatto meglio nelle fasi cruciali dei set che poi ci ha fatto un po' perdere il treno e poi la partita si è incanalata nella loro direzione. Adesso testa subito a mercoledì prossimo e vediamo di farci trovare pronti per portare la gara 3. Nel primo set siamo partiti veramente carichi e loro secondo me non se l'aspettavano, infatti hanno fatto un po' fatica. Poi sono venuti fuori come una grande squadra che sono loro e noi purtroppo abbiamo ceduto un po', non siamo riusciti a mantenere quello che siamo riusciti a fare nel primo set e purtroppo è andata così. Siamo una squadra che può combattere contro uno a Bergamo e sicuramente riusciremo a farlo anche in casa. Speriamo che sia un'altra battaglia e vedremo se riusciranno a espugnare il nostro castello. E ovviamente in bocca al lupo ai tucani per la sfida di domani. Intanto noi ci fermiamo qui con il telegiornale e vi ricordo prima di salutarvi che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito internet livebrescia.tv Eccolo qua dove trovate anche la diretta di live in questo piccolo box, dove trovate tutti i banner dedicati per accedere ad esempio al nostro Pirlo delle 6, la newsletter che vi spedisce tutte le sere alle 18 le top news della giornata nella vostra casella di posta elettronica oppure ai nostri canali telegram e livebrescia news della livebrescia sport. In questo caso riceverete sul vostro telefono cellulare tutte le notizie della giornata non appena vengono pubblicate. In conclusione io alla fine vi ringrazio per averci seguito anche quest'oggi. Vi invito come sempre a tornare con noi questa sera alle 19 per un nuovo aggiornamento con informazione. Per il momento un buon proseguimento di giornata a tutti voi e a presto. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet. Puoi riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.